Preoccupazione no perché a vederli lavorare la preoccupazione non deve non deve prevalere su tutto il resto bisogna arrivarci nel modo giusto senza troppa neanche ansia senza troppa frenesia con la consapevolezza che che la squadra può far bene ma che si deve cementare deve essere coesa tutti insieme devono avere la voglia di ottenere di fare una grande prestazione di ottenere la gratificazione del lavoro settimanale che è vincere la partita la gratificazione quella lavorano fanno fatica durante la settimana per un unico obiettivo quello di diventare squadra e vincere le partite quello è un po il credo il verbo che stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi dall'inizio dall'inizio della stagione in ogni allenamento mi fa piacere che ad ogni allenamento ci sono sempre tanti tifosi a seguire e che si rendono conto della fatica che fanno durante la settimana per farsi trovare pronti poi dopo alla gara siamo siamo lì siamo lì a poche ore dalla prima di campionato avremo la possibilità di farlo davanti al nostro pubblico e lo ripeto secondo me il nostro pubblico è lì è lì è pronto a spingerci lì pronto a incitare i propri propri beniamini ma c'è la necessità di avere l'atteggiamento giusto si conquista il nostro pubblico più con un tec che un contrasto vinto il non mollare mai che non con la giocata di fino il colpo di tacco ciò non toglie che la squadra abbia anche i colpi per poter giocare bene a calcio perché credo che alla fine devi anche giocare bene per poter vincere le partite però prima voglio quell'altro atteggiamento lì l'atteggiamento quello di chi non moglia mai devono dire mamma mia ci tocca giocare contro l'arezzo mamma mia come sono scorbutici questi qui ecco allora comincia a essere comincia a essere una squadrettina bellina tutto ha un ottimo allenatore che viene da delle esperienze importanti nel settore giovane dello spezia e hanno fatto molto bene al di là del risultato di 3 a 0 a frosinone nella prima frazione di gioco strameritavano il vantaggio hanno giocatori di qualità importanti e che hanno anche accompagnato la cavalcata di due anni fa quando dalla lega pro sono saliti in via attraverso attraverso i playoff vari lenoci fietta ambrosini marconi a qui ci aggiungi giocatori esperti importanti di briganti no sa che di quinzio che anno scorso ha stravinto il campionato con la spalla e già te ne ho detti 7 8 non so se sarà a disposizione chinellato che ha avuto qualche problemino in settimana non so se sarà della della gara però hanno delle alternative con dei giovani molto molto interessanti che ci dovranno far tenere le antenne dritte per tutto l'arco della gara